Alla data odierna l'attivazione del servizio di pulizia delle spiagge per la stagione estiva ormai prossima ad entrare nel vivo è in forte dubbio. Nelle scorse settimane da Palazzo di Città si è deciso di intervenire in proprio con una bonifica straordinaria per ripulire gli arenili del tratto costiero in gran parte invasi dai canneti fluviali portati dalla piena del fiume Salso dello scorso 2 febbraio. Il problema attuale è invece legato alla mancanza di un servizio che copra i mesi di giugno, luglio e agosto. La situazione di difficoltà è stata confermata dall'assessore con delega alla gestione dei rifiuti Salvo la Carrubba il quale ha anche lanciato un appello alla cittadinanza rivolto soprattutto a chi usufruirà delle spiagge. La regione ormai demanda ai comuni senza dare le coperture finanziarie tutti i servizi quindi alla data odierna l'ICATA per quest'estate non era il servizio di pulizia delle spiagge. Noi nei prossimi giorni cercheremo un incontro col presidente della regione stesso con tutti i funzionari che ci possono dare riscontro o aiuto quindi invitiamo già da oggi tutti i cittadini ma soprattutto chi verrà anche dai paesi vicini a non abbandonare i sacchetti sulla spiaggia perché per buona prassi non si fa e inoltre quest'anno non ci sarà nessuno che lo potrà raccogliere. Il disagio maggiore si vivrà prevalentemente nelle parti di spiagge non sottoposte a concessione. nei tratti lottizzati la pulizia verrà infatti espletata da chi ha la concessione che provvederà anche al servizio di sicurezza. Si va pertanto verso una stagione estiva che vedrà gran parte dei 24 chilometri del litorale costiero licatese sguarniti del servizio di pulizia e qui ovviamente entrerà in ballo il senso civico dei licatesi e di chi verrà a usufruire degli arenili, lasciare gli inerti sulla sabbia e chi verrà infatti a trasformare in breve tempo le spiagge licatesi in una sorta di discarica a cielo aperto. Come anticipato dall'assessore Salvo Lacarrubba a stretto giro di posta qualche tentativo a livello regionale verrà fatto magari mettendo sul piatto della bilancio l'importanza che la stagione estiva riveste a livello economico per molte attività a carattere stagionali presenti sugli arenili.